Número 3 Número 3 Número 3 E' la vettura 31 ora quasi Dicevo, lo correggo diventamente Si, si, no, no, correggo di pulita Sì, 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 sì, sì. Emilio Ferroni e Daniele Fiorini Allora devo ricapitolare sono primi assoluti e primi del gruppo T1 mentre Lolli Facile sono secondi assoluti primi di T2, primi del Suzuki Challenge secondi se le cantano e se le suonano è giusto ancora il sole, va bene posto? Dimmi di lasciare il terzo posto che verrà occupato da Codecafedullo perché in chiave campionato gli equipaggi TH non fanno parte Campioni italiani Cross Country Rally che è un grosso grosso risultato Rudy il premio per il secondo di T2 non lo possiamo ragazzi bianco gialli spero di rivedere è sempre lì a a chi lo dici va bene, arrivederci all'anno prossimo